... Giuseppe, ma non ti guardi per niente? Perché? Sei in pigiama seduto a terra con un cactus in mano. E quindi? E quindi? Ma dove è finita la verilità? Dove è finito il maschio alfa? Dove è finito l'uomo che non deve chiedere mai? Maschio alfa, verilità, ma di cosa stai parlando? Oggi l'uomo ha una mentalità diversa, ha una mentalità più green, una mentalità ecosostenibile, sensibile ai temi della natura. Non è il maschio alfa. Ah, ho capito. Ho capito tutto, ed io che non ci sono arrivato subito. Oh, mi fa piacere che tu abbia capito. Sei per un maschio? Ma va a f***lo, va. Ah, 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 ah.